Alibaba, bene, torniamo a parlarne perché un po' a sorpresa, ieri il CEO Daniel Jung ha detto che l'azienda sta per essere ristrutturata. Daniel però non sta parlando di farsi un bel giro all'IKEA, quanto piuttosto di dividere l'azienda in 6 sottoaziende diverse, dove ognuna tra l'altro potrebbe avere in futuro una propria IPO, quindi è una situazione molto particolare. Dopo l'annuncio il titolo è schizzato del 15% e siccome, tanto per cominciare, è un titolo che ho io in portafoglio, ma soprattutto sul canale ne abbiamo parlato più volte, voglio spiegare un pochino meglio la situazione e dirvi soprattutto cosa ne penso. Iniziamo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video su Alibaba e chi lo sa, magari forse l'ultimo video su Alibaba, così come la conosciamo, infatti potremmo assistere a altre aziende con altri nomi, non sappiamo nemmeno se terranno il nome a dire il vero. Sarebbe stato fighissimo creare tipo un'azienda per ogni lettera del nome, cioè riuscite a immaginarvi che figata, però Alibaba ha 7 lettere, cioè questo piccolo dettaglio. Scherzi a parte, tanto per cominciare vi devo dire che questo video lo sto registrando in modo super lampo, io ovviamente mi sono segnato delle cose, dei dati, ho fatto un po' di ricerche, però non ci sarà la cura a cui siete abituati e a questo proposito alla fine vi devo chiedere un parere, quindi per favore rimanete fino alla fine, è importante. Iniziamo subito concretamente con lo spiegare che cosa sta succedendo, cosa succederà e dopo vi dico cosa ne penso a titolo personale. Questa operazione aziendale si chiama spin-off e sto usando il termine inglese apposta perché in generale in italiano è un po' difficile da tradurre. A volte si potrebbe dire scissione, ma di solito ha una accezione diversa, oppure scorporo, ma è una parola che non è usata praticamente da nessuno. Quindi voi usate spin-off che andate sul sicuro. Lo spin-off normalmente viene fatto da grandi, addirittura come in questo caso mega aziende, che hanno all'interno più divisioni, a volte anche molto diverse tra loro. In questo caso infatti abbiamo l'e-commerce e il cloud, cose che in realtà hanno ben pochi punti di contatto. Ne hanno sicuramente, ma in generale non sono divisioni così tanto collegate. Ad esempio, tanti secondo me tra voi si sono dimenticati che PayPal un tempo era sotto eBay. Infatti eBay l'aveva comprata nel 2002, poi negli anni PayPal era diventata un colosso e doveva in qualche modo spiccare il volo da sola, per quello a un certo punto eBay ha deciso di vendere, di in qualche modo fare appunto uno spin-off, quotando in borsa PayPal, che da allora è diventata grande quattro volte eBay. Ma piccolo dettaglio. In quel caso lo spin-off era stato fatto tra realtà e tra modelli di business completamente diversi. Piattaforma per e-commerce online con mezzo di pagamento, cioè non c'entrava molto, ma in realtà a volte c'è anche uno spin-off tra divisioni con molti punti di contatto, come in questo caso Alibaba e-commerce, Alibaba logistica. Dopo di questo punto ne parliamo, ma giusto per farvi capire che non è impossibile vedere spin-off anche tra aziende diciamo simili. Personalmente mi aspetto che infatti un domani Tesla possa fare uno spin-off da SolarCity. È assolutamente possibile. Ora domanda delle domande. Perché viene fatto tutto ciò? A dire il vero se ci pensiamo sembra controintuitivo. Noi abbiamo sempre immaginato le aziende come più grandi diventano, meglio è. E in questo caso si sceglie volontariamente di diventare più piccoli. Cosa non torna? Spesso infatti ci si vuole fondere per andare a creare quelle che si chiamano sinergie, quindi dei risparmi di costi fissi o in generale delle ottimizzazioni. In questo caso vi faccio un esempio assolutamente banale. Io ho un'attività che richiede un certo spazio di uffici, tu pure, ci uniamo così usiamo lo stesso ufficio e risparmiamo. Questo è un risparmio di costo non da poco, che in casi come quello di Alibaba può arrivare anche a miliardi di costi risparmiati. Altra logica, economie di scala. Qui il discorso è un po' diverso, però in generale un'azienda più grande è, più riesce a sfruttare economie di scala, quindi risparmiare ulteriormente sui costi. Qui perdiamo apparentemente entrambe le cose, quindi dov'è il vantaggio? Il vantaggio c'è e tra l'altro è il motivo per cui il mercato, un po' così anche di impulso, va detto, sta reagendo positivamente. Spesso dovete immaginare i grandi gruppi che nel tempo diventano delle tartarughe. Vi faccio questa metafora, vi ricordate la favola della lepre e della tartaruga che ci raccontavano da bambini? Se non ve la ricordate, ve la dico io, è molto semplice. La tartaruga e la lepre devono fare una gara di corsa, di velocità. Ovviamente la lepre parte subito a razzo e inizia ad arrivare molto vicino al traguardo, ma quando manca poco si stanca, non ce la fa più, si ferma, si inizia a riposare. Nel frattempo la tartaruga, che è sicuramente più lenta, però continua ad andare avanti perché ha una resistenza molto superiore e quindi alla fine la tartaruga vince. Nel mondo del business non funziona così, funziona esattamente il contrario. Spesso in questi casi essere un grande gruppo, colossale, enorme, ma anche molto lento, sì, ti rende resistente alle vicissitudini che possono esserci in un settore, ma spesso ti lasciano parecchio indietro. E la gara, il più delle volte, la vince proprio la lepre. Analizziamo infatti tre punti. Punto numero uno, competitività. Nei grandi gruppi spesso si hanno più divisioni e però sono anche divisioni molto eterogenee tra loro. Non parlo di modelli di business, ma proprio come efficienza, per cui abbiamo delle divisioni molto virtuose che producono un sacco di utile con bassissimi costi. Insomma, il top del top, proprio il fiore all'occhietto dell'azienda. Però abbiamo anche delle divisioni che sono un po' più legnose, magari molto grandi, con delle dinamiche un po' più scadenti, un po' più stantie, e quindi sono poco efficienti, portano pochissimi risultati all'azienda. Quello che si ottiene è un effetto media. I risultati alla fine sono medi. Per cui siccome alla fine i risultati sono di tutti, abbiamo i peggiori, che non sono assolutamente incentivati a fare meglio, perché in qualche modo si approfittano anche dei risultati prodotti dai migliori. E i migliori non sono incentivati a fare meglio perché tanto i loro risultati vengono martoriati dai risultati dei peggiori. Un po' come l'Unione Europea. Scherzo, non facciamo i tal exit, mi raccomando, eh? Attenzione. Uno spin-off, quindi, rende tutte le aziende che a questo punto operano in modo individuale più responsabili, direttamente responsabili, dei propri risultati e anche delle proprie conseguenze. Punto numero due, innovazione. Sicuramente con questo tipo di operazione, con uno spin-off, si vanno a perdere dei vantaggi di costo, delle sinergie. Il più delle volte, però, queste sinergie sono dannose. Vi faccio un esempio pratico. Alibaba ha anche una divisione di logistica che sfrutta attivamente per mandare avanti la propria attività di e-commerce. Siccome questa divisione di logistica funziona, è molto grande, fa risparmiare tantissimi soldi, chi gliela fa fare ad Alibaba di innovare tanto? In fondo già risparmia un sacco. A sto punto non faccio niente, no? Peccato che nel frattempo i concorrenti, faccio un esempio tra tutti, JD, stanno andando avanti, stanno innovando e la divisione logistica di Alibaba, seppur oggi sia ancora indubbiamente la migliore, migliore di JD, è ferma. Mentre invece JD sta già iniziando a fare le consegne con i droni, nelle zone rurali, insomma, dei passaggi che potrebbero rivelarsi molto importanti. Dividere le aziende quindi toglie sì dei vantaggi di costo, ma le rende molto più innovative, molto più competitive, tant'è che PayPal ha dato il meglio di sé proprio dopo che si era staccata da eBay, che invece la rendeva un po' più legnosa. Terzo punto, management. Questo è un passaggio un pelo più articolato, ma cerco di spiegarlo nel modo iper semplice. Il CEO di un'azienda, cioè non è Dio, è una persona che come tutti vuole guadagnare un sacco e fare il meno possibile. Normalmente la situazione è questa. Per cui cosa fa di solito un CEO? Vuole cercare di far crescere l'azienda tantissimo, fare un gruppo enorme, avere un gruppo molto resistente che alla fine dell'anno abbia un utile enorme, in modo tale da avere uno stipendio enorme. Alla fine è sempre lì si arriva. Al contrario, gestire un'azienda più piccola è sia più rischioso, perché le aziende più piccole sono convenzionalmente più rischiose, e siccome l'azienda avrà meno utile, il tuo stipendio deve essere commisorato a quell'utile, quindi sicuramente sarà minore. Per cui quando un CEO decide volontariamente di fare uno spin-off, è di solito un segno molto positivo del management, che come priorità non ha solamente l'arricchimento personale, ma anche il benessere degli azionisti e dell'azienda. Quindi generalmente questa cosa fa sì che il CEO, in questo caso Daniel Zhang, appaia molto bene agli occhi degli investitori. Quindi generalmente parlando, gli spin-off sono ritenuti positivi per questi motivi. Ovviamente parlo in generale, perché il caso specifico potrebbe essere diverso, non sappiamo come verrà condotto, ma andiamo appunto a vedere il caso specifico. Alibaba, come verrà divisa? Io non ho trovato l'annuncio ufficiale, purtroppo, ho trovato solamente l'articolo di Bloomberg dove viene riportata la notizia, quindi prendete comunque quello che vi dico con le pinze. L'azienda verrà divisa in sei sottoaziende. Nel modo seguente abbiamo la divisione di Cloud, con a capo Daniel Zhang, che è l'attuale CEO dell'azienda, quindi a lui hanno dato un po' la divisione più all'avanguardia. Global Digital Business, credo intendano l'e-commerce estero, fuori dalla Cina continentale, con a capo Jiang Fan. Taobao e Tmall, con a capo TrueD Day, questa è la divisione più grossa in assoluto, dopo lo vediamo. Servizi Locali, gestita da Yu Yongfu, Digital Media, con a capo Fan Lu Yuan, Kainiao e Logistica, altra divisione molto importante, con a capo Fan Lu Yuan, no, scusate, Wanlin, bello della diretta. In tutto questo, Alibaba manterrebbe solamente la divisione più grande, quindi quella di Taobao e Tmall. Tutte le altre, in qualche modo, si divideranno dall'azienda madre, e ognuna potrebbe avere la propria IPO. Qui a schermo vi faccio vedere un grafico del fatturato dei oggi, del 2022, che fa più o meno capire, secondo me, quanto sono grandi le divisioni. Questo non parlo di capitalizzazione di mercato, di valore, ma di fatturato, quindi sicuramente il risultato sarà un po' diverso. Vedete comunque che e-commerce Cina, quindi Taobao e Tmall, è la divisione indubbiamente più grossa, e la divisione Cloud, invece, quella secondo me rivelerà un paio di sorprese, alla fine vi dico perché. Ok, finita quindi questa spiegazione, vi dico cosa ne penso personalmente. Bisogna dire, innanzitutto, che questa è un'operazione molto importante, da non sottovalutare, e che, secondo me, cambia tutto. Ne non sto dicendo in modo retorico, per fare il titolo clickbait. No, no, veramente cambia tutto. L'azienda è completamente diversa adesso. Ci sono, infatti, almeno tre punti che voglio toccare. Punto numero uno. Noi oggi abbiamo sempre visto Alibaba come un conglomerato. Conglomerato è un termine che si usa per identificare una azienda di aziende, quindi un'azienda che all'interno ha tante divisioni molto diverse tra loro, che punta alla dimensione, che di fatto era quello che Alibaba stava diventando negli ultimi anni. Per confronto possiamo prendere Tencent. Credo che sia Tencent il conglomerato per eccellenza, anche fuori dalla Cina, intendo, perché Tencent è un'azienda che si basa proprio su questo, avere all'interno tante aziende diverse. Un conglomerato, però, ha delle logiche diverse. Tanto per cominciare, come driver di crescita, non ha tanto quello delle singole aziende, quanto più quello di assorbirne di nuove, quindi di crescere attraverso le acquisizioni. Quindi diciamo che l'azienda produce un utile, con quell'utile acquisto altre aziende che produrranno utile, e così via. Cioè questa diventa la logica di un conglomerato. Altro passaggio, le valutazioni dei conglomerati, credo lo vediamo, sono più basse rispetto a quelle che potrebbero avere aziende che fanno una sola cosa, come può essere, non so, meta. Ovviamente parlare di valutazioni di meta ultimamente non è proprio l'ideale, ma seguitemi sul discorso. Altro passaggio relativo al essere un conglomerato. Abbiamo ormai, credo, capito che al governo cinese i conglomerati proprio gli fanno schifo. Questo perché nella loro testa sono delle aziende anticoncorrenziali che di fatto limitano la capacità di competere delle aziende, quelle più piccole. Quindi sicuramente questa è una mossa che rende Alibaba, o meglio, quello che ne risulterà, molto meno soggetta a possibili regolamentazioni. Secondo punto che cambia completamente, la valutazione a questo punto di un conglomerato non va più fatta una valutazione da conglomerato, ma bisogna fare una valutazione delle parti. E a questo punto, come dice lo stesso CEO, e in questo caso ha ragione, si va a sbloccare del valore. Questo perché abbiamo, ad esempio, la divisione cloud, che da sola ancora non ho i dati aggiornati, ovviamente non ce li abbiamo precisi, ma sicuramente vale di più di quanto varrebbe all'interno del gruppo. Quindi la valutazione complessivamente potrebbe aumentare. Però aspettiamo. Cioè io voglio farla prima di parlare di questa roba. Terzo punto, questo ve lo anticipo solamente, sicuramente torneremo a parlare di questa roba in futuro. Ossia, ci dovrà essere un momento in futuro in cui si concretizzerà questo spin-off. Quindi cosa accadrà fattualmente a noi azionisti? Potrebbe succedere una cosa di questo tipo. Noi, anziché avere un'azione Alibaba all'interno del portafoglio, come oggi, potremmo ricevere, con dei cambi ovviamente stabiliti, diciamo, un'azione di Alibaba e-commerce, un'azione di Alibaba Cloud, un'azione di Alibaba Logistica, e così via. Quindi tutto questo avverrà in modo automatico. Questo potrebbe essere uno degli scenari. Vi anticipo solamente una cosa che con buonissime probabilità accadrà. La divisione madre, quella Taobao e Tmall, quindi quella più grande, molto probabilmente nel primo anno, dopo lo spin-off, avrà delle valutazioni un po' depresse. Questo perché normalmente gli analisti danno molto più peso alle piccole aziende che si sono distaccate dalla principale. C'è molta più speranza per loro. Quindi con buonissime probabilità vedremo la divisione Taobao e Tmall con valutazioni molto depresse, forse troppo, quindi opportunità di investimento in questo caso. Ma potremmo anche vedere una divisione cloud, una divisione logistica che schizzano dei livelli completamente irrazionali. Perché? Perché tutta l'attenzione del mercato sarà lì. Quindi avremo una divisione cloud che magari avrà un PE di 40, robe del genere, che non hanno senso. Quindi quella fase, secondo me, bisogna essere molto attenti e soprattutto essere attivi. Perché altrimenti ci si rischia di perdere opportunità di questo tipo. Pensare in altre parole di avere oggi Alibaba, di fregarsene fino a quando tutto questo spin-off non sarà completo, eccetera, secondo me è un po' fallace. Nel senso che in questi casi bisogna essere attivi, bisogna essere partecipi e capire veramente cosa sta succedendo. Altrimenti che senso ha fare stock picking? Cioè, se si vuole essere passivi, secondo me ci sono altri titoli più interessanti in questo momento che non Alibaba. Comunque non preoccupatevi, sicuramente torneremo a parlarne in futuro. A questo proposito vi chiedo, come avete visto il video di oggi era molto semplice, c'erano pochissime immagini, poca cura anche nel montaggio perché dovevo farlo uscire oggi, il prima possibile. Preferite che in questi casi stia un pochino più sul pezzo, quindi magari pensare ad un format flash news per dire dove il video esce molto molto in fretta ma con poca cura e magari con anche poco approfondimento perché il tempo materiale è quello. Oppure preferite che in questo caso io mi prenda un po' più di giorni per approfondire di più e creare un video meglio confezionato? Ditemi voi, sono super aperto alle vostre proposte, alle vostre idee. Qua sotto nei commenti. Ragazzi, per oggi è tutto, un consaluto e alla prossima!